Ieri il ministro degli interni Priti Patella ha annunciato le nuove misure per i passeggeri in arrivo nel Regno Unito, con la novità della quarantena da passare in albergo per chi arriva dai paesi a rischio. Molti giornali hanno anticipato la lista dei 30 paesi i cui passeggeri dovrebbero andare in albergo per l'auto isolamento. L'Italia non fa parte della lista, che è invece composta, in maggioranza, da paesi sudamericani e africani. Il governo non ha previsto un contributo per affrontare le spese dell'albergo dove questi passeggeri saranno destinati e quindi i costi di alloggio saranno a carico dei cittadini che vorranno rientrare dai paesi nella lista. Non c'è distinzione di nazionalità per questi passeggeri e anche i britannici dovranno andare in albergo se provenienti dai paesi a rischio. Per il momento solo il Portogallo tra le nazioni europee è stato inserito nella lista, che chiaramente può subire delle variazioni a seconda della situazione interna delle nazioni. Scarica l'applicazione di TeleLondra, è gratuita e rimani connesso con il mondo italiano in UK. Ricevi le informazioni per gli italiani in UK tutti i giorni. Se anche tu vuoi fare pubblicità su TeleLondra, scrivici a info.telelondra.uk o contattaci al numero 07 43 21 99 430.